Ciao, benvenuto al consueto appuntamento mattiniero con la previsione per la giornata in corso per quanto riguarda Bitcoin, Ethereum e Solana. Allora, ieri se ben ricordo avevamo lo short, ok? Il mercato è che dire che è andato short è poco, quindi un vero e proprio collasso per quanto riguarda Bitcoin e adesso siamo arrivati, lo possiamo vedere, su il minimo che è previsto grossomodo intorno alle 11, ok? Stiamo parlando chiaramente di minimo e temporale. Quindi che cosa ci aspettiamo per la giornata odierna? Allora, il trend di fondo, come sempre, quello del 5 giorni è in una fase ribassista e vede il suo minimo proiettato intorno alle 10 nella giornata di domani. Però la giornata odierna ci dà rialzo. Il problema in questo caso, quantomeno dal mio metodo, è che non abbiamo le condizioni per poter entrare a rialzo quindi poi qua sarà a te, sostanzialmente, decidere come e quando entrare a mercato. Quindi per quanto mi riguarda Bitcoin non è lavorabile perché lo short è già stato preso ed era la rottura di questo supporto, il mercato è andato a romperlo. Anzi, la rottura ieri ce l'avevamo qua perché questa era il target, ma per la giornata di oggi non abbiamo ancora l'opportunità di poter tracciare un livello per un ingresso a mercato. Quindi sarà una condizione che dovrai fare tu, sostanzialmente. Andiamo a vedere adesso, un attimo, si è sposta tutta, andiamo a vedere Ethereum, cosa ci racconta, ovviamente anche Ethereum, stesso discorso che arriva una previsione di fase ribassista, però se ricordate eravamo messi male con le medie mobili cicche e quindi non era possibile prendere l'operazione. Il mercato è comunque sceso, anche lui vede un minimo previsto intorno alle 9. Guardiamo se abbiamo eventualmente qualche supporto da queste parti. Beh, qui abbiamo in realtà un'area che si potrebbe anche utilizzare, che è appunto l'area di 3.524 che il mercato ha già rotto, quindi c'è già stata questa rottura e quindi era un potenziale, diciamo, segnale a prendere. Però se seguiamo quelle che sono le regole statistiche, oggi non si fa nulla sulle criptovalute, perché abbiamo il prossimo picco intorno alle 18 di quest'oggi e sarà il picco per un ribasso. Quindi un eventuale rialzo di Ethereum dovrà essere preso in considerazione per poi andare successivamente a prendere uno short. Chiaramente al momento attuale definire un livello è impossibile, perché il livello attuale è questo qua, però non è sicuramente un ritracciamento questa candiera che stiamo vedendo. Il mercato deve ritracciare e se questo rimarrà l'ultimo livello, allora sarà poi questa l'area dove si potranno cercare delle indicazioni al ribasso. Io sono Paolo Paisino, mi puoi trovare sul mio sito tradingpertutti.com, troverai comunque qua in alto a destra tutti i riferimenti per poter utilizzare i miei servizi come il servizio segnali e ovviamente l'indicatore Voltem, che è lo strumento che mi vedi utilizzare tutti i giorni per la mia operatività, ma sul mio canale YouTube troverai anche Trading dal vivo, ti ricordo che tutti i mercoledì, quindi domani alle 15.30, sono l'AVI per fare trading e formazione dal vivo e il corso di analisi ciclica completamente gratuito, parliamo di 40 ore di formazione gratis, che ti suggerisco di guardare per apprendere le dinamiche dell'analisi ciclica. Andiamo a vedere infine Solana, poi ci salutiamo. Solana, vediamo che avevamo un minimo intorno alle 5, il mercato in questo momento sembrerebbe avere un attimo mollato il colpo, anche per quanto riguarda Solana abbiamo una tendenza ribassista che vede chiudere poi il ciclo nella giornata del 13, del torno a giugno intorno all'1 di notte, e al momento la fase rialzista che però dovrebbe durare fino alle 15, non la possiamo prendere, quella ribassista è chiaramente quella di fondo, non la possiamo prendere perché il prezzo è sotto alle medie, quindi non abbiamo l'opportunità di andare a prendere dei rialzi. Per quanto mi riguarda non parlo nulla sulle criptovalute quest'oggi, ovviamente sarai libero di utilizzare eventualmente anche il conto trend, quindi le indicazioni su base ciclica. Con questo è tutto, ti auguro una buona giornata. Ciao ciao!